Base banneare lancia l'allarme per la prossima stagione evidenziando che tra l'incertezza normativa connessa alla direttiva Bolkestein e l'allarme coronavirus sarà un'estate da dimenticare. I sindacati dei banneari inoltre si sentono in grandi esclusi dal recente decreto Cura Italia. L'emergenza coronavirus ha provocato cancellazioni in tutte le destinazioni turistiche, tanto che il fenomeno si sta propagando in modo importante in tutta Italia, col conseguente crollo delle prenotazioni. Questa situazione riguarda anche le 30 mila concessioni banneari italiane che il sindacato degli operatori denuncia siano state estromesse dal governo Conte dai tavoli tecnici per fronteggiare questa gravissima situazione. Reduci lo scorso anno da forti mareggiate, da una stagione che ha visto il 25% delle presenze in meno, oggi più che mai i banneari si sentono ostaggio dell'incertezza anche perché il governo non ha indirizzato nessuna circolare ai comuni per l'applicazione della legge di bilancio che lo scorso anno aveva previsto l'estensione delle concessioni per 15 anni. Inoltre i banneari lamentano il fatto di essere stati esclusi da tutti i benefici approvati per le imprese nel recente decreto connesso all'emergenza in atto.